Buonasera a tutti, siamo collegati in diretta con Pomeriggio Delinque, direttamente dalla finalistica di Master Mafia Italia, programma con milioni di affia... scusate, affezionati telespettatori. Vado subito a presentarvi i giudici di questa splendida competizione. Carlo Scrotta, Giulia Borgoni, Giulia Bostiani e Giulia Canna Bertini. Buonasera a tutti, siamo molto felici di ospitarvi nella nostra cucina che sforma i migliori cuochi d'Italia. Come sapete stasera scopriremo le ricerche finaliste. I cuochi dovranno sapere rappresentare al meglio il nostro magnifico paese, attraverso dei piatti... sopraffini. Solo il migliore potrà sfregersi del titolo di primo Master Mafia Italia. E allora facciamo entrare i finalisti! Buonasera a tutti. Mostrateci i vostri piatti e in bocca alla lupare! Crepi, crepi, crepate! Pagliatelle a rifiuto. Pasta di grano adattivo, scorie di amianto, su un letto percolato in salsa arancida. Naturalmente, con una bella spolverata di rifiuto. Vi consiglio un vino della nostra terra, un vino di Fasanostra. Ah, la terra dei cuochi! Mousse di fish. Rondelle di fish di contrabbando, tagliate sottili sottili. Truffate in una crema almeno di zecca. Le assicuro che queste, da quanto sono buone, danno dipendenza. Mi sembra un piatto azzardato. Vi presento il trofeo al bestaggio con corrotte di rufa. Il piatto tradizionale da servire freddo. In genere è preceduto da un avvertimento. Una ricetta che panta i migliori di intimidazione in tutta Italia. Immagino il successo che riscuota. Chi sarà il vincitore? Ramonezza con le sue tagliatelle a rifiuto? Oppure, fortunata al gioco con la mousse di fish? O ancora, ricatto con le trofe al bestaggio con corrotte di truffa? Ci avviamo alla premiazione. Che entri il pizzino con il vincitore? Io la mafia non la dicerisco. Cosa? Chi ha parlato? Io la mafia non la dicerisco. A questo vi propongo un piatto semplice, veloce, mazionale. La pizza della legalità. Verde come la speranza di coloro che vorrebbero avere una vita normale. Bianca come la purezza dei bambini che giocano per strada. E rossa come il sangue delle vittime uccenti. Perchè io la mafia non la dicerisco. Noi la mafia non la diceriamo. Noi la mafia non la diceriamo. Scena 7, take 2. No. Bianca come l'aspetta... Bene. Troppo il campo. No! Di qua ho sbagliato. Di intimidazione in tutto... Azione. No. Scena 6, take 6. Ecco, scatto! Scatto! Pasta di grano all'agriattiva su un... Scano 8, take 1. Azione. stop allora crepi crepi crepate ci avviciniamo la scena 18 take 2 azione perché io la mafia non la decennizzo bianca con la purezza dei bambini che giocano per strada rossa con il sangue delle vittime innocenti perché io la mafia non la decennizzo